e non stai e sei grafica più o meno andiamo alla io non ho mangiato la brioche io non ho mangiato io non ho mangiato e se non lo stai mai sui miei serrati ah va, vuoi dire che la pizza non lo ha mangiato? ma io ho finito prima se lo mangiato in Italia invece ero in Italia non mi ne impiegai niente tu anche se stai affesso non puoi superare i 48 kg e capisci? di prima ma lo sai che io sono venuta qua prima che devo mangiare i cossi tarali ma mi lo capisci facendo un tarali si classificò il primo posto no, stanno ancora un cossi tarali se non ce ne hai mangiati papà? perché io sono ottenuto le mangiate a lanciare le origini